Oggi vi propongo il croccante alle mandorle, ma un croccante alle mandorle speciale, al gusto di caffè. La ricetta è facilissima, il croccante è buonissimo, se lo provate mi raccomando lasciatemi il commento. Fatemi sapere cosa ne pensate, è super super buono! Mettete in ammollo 200 g di mandorle, dopo 10 minuti li risciacquate benissimo sotto l'acqua corrente, riscolate, poi prendete una padella antiaderente e versate 10 g di caffè solubile e 70 ml di acqua naturale. Scaldiamo benissimo l'acqua e facciamo sciogliere il caffè solubile. Una volta che si è sciolto il caffè solubile, versiamo 70 g di zucchero semolato. Sciogliate anche lo zucchero, una volta che si è sciolto anche lo zucchero, possiamo versare le nostre mandorle, che abbiamo lavato benissimo sotto l'acqua corrente. E adesso dobbiamo mescolare e lavorare bene il tutto per circa 15-18 minuti, più o meno all'incirca. Guardate ragazzi, il composto risulterà, diciamo, leggermente schiumoso e voi dovete continuare a lavorare e mescolare, diventerà tipo cremoso, più chiaro e ancora dovete continuare a mescolare. Ovviamente è un lavoro continuo, non dovete mai lasciare la vostra padella. Quando il composto raggiunge questa consistenza, continuate a mescolare per circa 5 minuti ed è pronto. Benissimo, una volta che abbiamo lavorato bene mescolando di continuo il nostro composto, prendete una teglia, mettete la carta forno e versate il vostro composto. Eccolo qui, deve avere questa consistenza di colore bruno, deve diventare più scuro. Ovviamente fate attenzione a non bruciare lo zucchero. Stendete bene le mandorle e lo zucchero con un altro foglio di carta forno e potete utilizzare o un limone oppure un'arancia. Stendete benissimo, dopo circa 5 minuti che il vostro composto è tornato un pochettino a temperatura ambiente, non fate passare troppo tempo, se no diventa troppo duro per essere tagliato, potete tagliare il vostro composto con un cortello. Eccolo qui. Fate passare circa 5 minuti, lo fate solidificare un poco, 5-6 minuti, siamo lì all'incirca, non fate passare troppo. Lo tagliate ed ecco qui il nostro croccante alle mandorle e caffè. Ragazzi, è buonissimo, una vera e propria delizia. Questo è il mio figlio che tende a dirubare il croccante. Ciao, alla prossima!